Sono 193, di cui 62 stranieri, le persone identificate, 34 i veicoli controllati, nonché 12 gli esercizi pubblici. E il bilancio di un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto, svolto dalla Polizia di Stato a Trieste il 23 aprile scorso, reso noto quest'oggi. I controlli miravano a monitorare aree di degrado urbanistico e sociale, per prevenire in special modo consumo di sostanze superpacenti, abuso di alcolici e vandalizzazione degli spazi pubblici. Il servizio è stato effettuato da agenti della Questura di Trieste, con il rinforzo di equipaggi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Padova, di personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Diretto dal commissario di Polizia Remo Margiotta, il servizio di controllo ha interessato tra l'altro le zone di Piazza Goldoni, Piazza del Perugino, Piazza Garibaldi, Piazza Oberdan, Viale 20 Settembre, il rione di Valmaura, Borgo San Sergio, Piccina e la zona dell'ospedale Maggiore.